Salve a tutti e bentrovati a Dialoghi, il mio nuovo spazio è dedicato ai talenti. Oggi è il piacere di avere con noi, in collegamento da Napoli, Giacomo Casaula, scrittore ed artista di teatro, in particolar modo della Teatro Canzone. Giacomo, io ti do il benvenuto e ti ringrazio per la tua partecipazione. Ciao Serena e grazie a te per l'invito. Dunque, Giacomo, io ho un po' introdotto quelle che sono le attività di cui parleremo oggi, per cui ti cedo subito la parola in modo che tu possa presentarti un po' a chi ci segue e raccontarci come è nata questa tua esperienza e con la scrittura e con la canzone e il teatro. Prego. Ma sì, diciamo che tutto nasce appunto dal teatro in realtà, nel senso che io ho cominciato a fare teatro con il laboratorio teatrale del mio liceo classico. E quella che inizialmente era un gioco, un divertimento fatto nel fine settimana, poi diciamo che anno dopo anno si è evoluto sempre di più ed è poi diventato il mio lavoro, la mia professione. In effetti la scrittura poi è un'attività quasi parallela, nel senso che comunque, come sai, in teatro noi siamo immersi nelle parole e per cui chiaramente la scrittura è venuta un po' di conseguenza. Avevo alcune idee da cominciare a mettere giù ed è nata questa. Poi sicuramente in questo mi ha aiutato molto anche, diciamo, il mio percorso di studio universitario perché appunto sono laureato in lettere e insomma c'è stata questa commistione di cose. E quindi Giacomo, per ricollegarmi a quello che tu hai detto all'inizio, quindi la tua formazione, se non erro, tu hai fatto poi proprio una formazione specifica per quanto riguarda lo spettacolo, il teatro, la canzone come grande figura di riferimento a Giorgio Gaber. Sì, sicuramente questa è stata una figura, sai, sono quelle figure fondamentali che ti accompagnano nella crescita e Gaber per me è stato così. Chiaramente l'ho potuto vedere solo attraverso internet, solo attraverso YouTube e chiaramente quando lui è andato via io avevo dieci anni per cui non ho avuto il tempo purtroppo per vederlo dal vivo. Però quando ho scoperto Gaber mi si è aperto, diciamo, sai, il cosiddetto mondo, nel senso che si apre il mondo ed effettivamente a me è stato questo. Cioè uno spettacolo che appunto mettesse insieme sia il teatro di prosa, sia la canzone d'autore che poi a me è sempre piaciuto. Ho detto, caspita, esiste uno spettacolo del genere, per cui mi piacerebbe ecco anche a me fare una cosa del genere, fare più o meno una cosa simile. E qual è stato il tuo primo spettacolo che ti ha visto da protagonista e immagino anche da autore? Ma in realtà da protagonista, se proprio vogliamo andare indietro nel tempo, mi ricordo che appunto proprio in quel laboratorio teatrale di cui parlavo prima, il primo personaggio che interpretai in un ruolo importante fu, pensa un po', il padre dei sei personaggi in cerca d'autore, avevo 15 anni, era una cosa molto così. Poi chiaramente, successivamente anche, proprio come teatro canzone, proprio uno spettacolo per esempio dedicato a Giorgio Gaber e poi infine Nichilismi e Fashion Week, che è il mio primo spettacolo inedito proprio di teatro canzone, in cui appunto io ho scritto sia i testi dei monologhi che delle canzoni. Insomma, quello è stato diciamo un po' il battesimo, se così possiamo chiamarlo. E da dove nasce questo titolo, Nichilismo e Fashion Week? Nichilismi e Fashion Week, sì, ma in realtà come sia puoi vincere anche dal titolo, c'è molta autoironia in questo, cioè nel senso che l'atteggiamento un po' nichilista che io ho fiutato, hanno usato anche nel mio mondo, cioè nel mondo giovanile, perché considera che insomma così l'ho voluto anche prendere fra virgolette un po' in giro questa cosa qua, e chiaramente invece la Fashion Week, insomma non sono io a doverlo spiegare, la Milano Fashion Week, insomma. E quindi visto che queste due parole, pensieri stavano molto bene insieme, ho provato a unirli. Poi chiaramente chi ascolta sia il disco con le canzoni e lo spettacolo, sia lo spettacolo per intero che contiene anche i monologhi, poi forse capisce ancora meglio perché ho voluto chiamare lo spettacolo proprio in New Business Fashion Week, sì. E lancio un po' una domanda che può sembrare una provocazione, ma non lo è, per capire un po' i collegamenti, perché comunque viviamo oggi in una società dove vanno molto di moda a proposito di fashion influencer, no? Cosiddetti. E quindi volevo chiederti se c'è anche un po' di ironia e di collegamento con queste nuove figure che hanno comunque un impatto su quella che è la nostra cultura odierna. Ma guarda, sicuramente c'è un monologo dello spettacolo, me lo hai proprio tirato di bocca, che è il profilo comune in cui a un certo punto io parlo, discuto da solo in realtà perché sono tutti i monologhi nel teatro canzone, però in realtà sono sempre poi i dialoghi con il pubblico, anche se da una parte sola. Io a un certo punto dico, se non si usasse sempre la parola resilienza, decine, centinaia, migliaia di influencer perderebbero il posto di lavoro. E quindi diciamo... Sì, è un termine un po' abusato oggi, decisamente. Anche perché poi fondamentalmente il macro tema principale di Nibilismi e Fashion Week sono proprio le mode, in tutte le sue forme, in tutti i suoi aspetti, per cui anche questo appunto, questo abuso, diciamo terminologico, è una di quelle mode che secondo me appunto è stata un po' forse esagerata, un po' abusata. Tra l'altro ho visto, guardato, ho seguito alcuni tuoi video esibizioni su YouTube e ho visto che oltre a dei chiari riferimenti a Giorgio Gabber ci sono anche altri artisti come il grande Rino Gaetano con Il cielo è sempre più blu e comunque vedo che è molto presente appunto nei tuoi lavori questa tematica politica, culturale con una vena di ironia ma anche un po' di denuncia, no? Perché comunque sono dei personaggi che hanno fatto la storia in questo senso. Assolutamente sì, soprattutto proprio nel teatro canzone. Io penso che il teatro canzone sia un genere proprio espressivo e drammaturgico che ti consente di parlare di tante cose importanti anche con una relativa semplicità. E questa è una cosa importante perché tu in questo modo riesci a non essere né schematico né elitario, cioè riesci a parlare a tutti e questa secondo me è una cosa importantissima. senza essere appunto l'artista con quella che è la cosiddetta puzza sotto il naso. Certo. E quindi sicuramente sì, Rino Gaetano che tu hai citato, Rino per me è una sorta di primo amore, nel senso che da quando ho scoperto lui che avevo 15 anni veramente proprio l'approccio all'ascoltare musica è cambiato. Sai quando ti innamori per la prima volta e non riesci poi mai a dimenticare quello che è stato. Per me Rino è ancora questo, quando appunto ascolto le sue canzoni mi viene appunto ancora la pelle d'occa, per cui... Eh sì, sempre attuale, sempre attuale. È un'artista che adoro e infatti insomma è sicuramente presente indirettamente, ovviamente in tante cose che faccio, che scrivo, che metto diciamo in scena. Sì, e poi comunque sono personaggi e sicuramente il tuo lavoro va in questo senso, comunque c'è quello stimolo, quell'incoraggiamento a ravvivare un po' il pensiero critico, no? Che forse è un po' molto... un po' annaquato oggi perché comunque proprio a causa di certe mode magari siamo un po' troppo omologati, almeno questa è la mia opinione da utente. No, è così, è così. E c'è poco tutela diciamo di quella che è la difesa della propria identità e dell'applicazione di un proprio pensiero critico anziché seguire le mode a priori. Assolutamente. Quindi la vediamo ecco da quello che ho capito allo stesso modo. Allora, adesso io, è sempre ovviamente collegato, però ti faccio una domanda relativa a quella che è il tuo libro Siamo tutti figli unici. È un titolo che mi ha colpito molto da una parte perché io in primis sono figlia unica, però chiaramente ecco, ulteriore forma di comunanza, però e ovviamente poi osservando quella bellissima copertina con quel bel quadro capisco, si capisce subito che in realtà è una tematica più vasta e che va ad abbracciare quella che è poi una condizione non tanto sentimentale ma diciamo semmai esistenziale, no? Perché questo titolo? Ma guarda, a differenza di altre cose che magari il titolo viene sempre immaginato, pensato o in media stress, cioè a metà o alla fine addirittura del lavoro, addirittura a volte è l'editore stesso che dà il titolo al lavoro, io invece appunto il titolo Siamo tutti figli unici è nato subito perché fondamentalmente io volevo parlare di solitudine, questo volevo fare, in questo romanzo volevo parlare di solitudine, la storia, le vicende che sono state raccontate e chiaramente nascono dopo, sono un po' l'orpello esterno che mi serviva a parlare del tema, ma io sono ancora, fra virgolette, a volte ancorato a quel vecchio tipo di modo di fare, qui si parla prima del tema e poi di tutto quello che viene dopo, in questo caso chiaramente essendo un romanzo devi costruire chiaramente una storia perché sennò non avrebbe senso, però io volevo parlare di solitudine e quindi il titolo Siamo tutti figli unici mi sembrava quello più completo, più azzeccato, più… ed è stata, fra virgolette, anche una sorta di, appunto ricitando Rino Gaetano, un'estremizzazione del concetto mio fratello è figlio unico, cioè quasi un'estremizzazione appunto che può sembrare negativa ma che poi leggendo la storia fino alla fine in realtà lascia molte poi aperture, molte feritoie di luce che entrano perché poi rientra poi anche quello che è un aspetto mio caratteriale che comunque cerco di essere quanto più ottimista è possibile, anche se il romanzo almeno per una buona fetta sembra proprio allontanarsi da questa cosa qui. Quindi c'è comunque, ovviamente c'è sempre un po' la proiezione dell'autore nei propri lavori, ma quanto c'è di veramente biografico? In parte me l'hai detto perché comunque c'è questa tematica della solitudine che ovviamente nasce probabilmente anche da un sentire personale, no? Perché poi quando parliamo di solitudine che è una condizione che sicuramente ognuno di noi avrà provato prima o poi nella propria vita, normalmente nasce magari da un senso di incompletezza che ci può essere in ognuno di noi, no? Il percepirsi soli più che l'esserlo perché magari non lo si è, ci si sente, oppure magari, ecco, parlavamo di figli unici che facevo questa ironia, però in realtà ci si può sentire soli anche all'interno magari per dire di una famiglia, di un gruppo molto numeroso. Infatti il gioco è stato proprio questo, c'è stato quello di parlare di solitudine attraverso una, diciamo, una storia familiare. Paradossalmente il tema acquisisce un valore ancora più forte perché chiaramente non è quella la solitudine generale o così, ma è la solitudine che si annida praticamente, che si insinua tra le pieghe appunto di una famiglia, dei sentimenti di una famiglia e questo, diciamo, era fra virgolette l'aspetto più, ecco, più forte che io di cui ho voluto parlare, insomma, e da qui poi chiaramente è nata la storia appunto di questa famiglia romana che vive a Roma e c'è questo figlio che si è allontanato e che sono otto anni che, insomma, che non si è fatto proprio né vedere né sentire e che improvvisamente in qualche modo appunto ritorna in scena, ecco, mettiamola così, e poi da qui si annidano tutta una serie di vicende appunto con il padre, la madre e suo fratello e anche questa figura appunto ancora femminile di questa nonna che in qualche modo credo che poi sia la vera, forse, protagonista della storia, anche se è un romanzo molto collettivo, molto corale, ha proprio un grandissimo riferimento. Per quanto riguarda gli elementi biografici, sì, sicuramente è un sentire di solitudine mio anche come figlio unico, però ecco, posso dire forse con certezza che ci sono molti meno elementi autobiografici rispetto per esempio al mio primo romanzo e c'è stato anche qui un percorso di, non dico di allontanamento perché appunto molte delle piccole cose sono anche mie, però a livello di costruzione di personaggi sicuramente stavolta mi sono allontanato un po' rispetto invece al primo romanzo che aveva un grande protagonista centrale che molti mi hanno detto questo sei tu, per cui... Ho capito. Per quanto riguarda questo tuo romanzo sulla solitudine, mi parlavi appunto di questa situazione familiare, no? Ci sono quindi diverse generazioni a confronto, no? Perché ci sono i figli, i genitori, la nonna in particolare, che girando appunto su questa... facendosi veicoli per questa tematica della solitudine, ovviamente ognuno la vivrà secondo quelle che sono, oltre che il proprio carattere, anche le qualità del, diciamo, culturale di quelle che possono essere le varie generazioni. Ma tra questi personaggi c'è, ti chiedo, un rappresentante di queste generazioni che possa rappresentare un po' una forma di... un modello di riscatto da questo sentirsi un po' incompleti, un po' un po' soli, non so, magari la nonna può essere una guida... La nonna sicuramente rappresenta un, fra virgolette, parecchi schiaffi alle generazioni soggettive, questo sicuramente. Però direi che anche appunto quelli che appunto sono i ragazzi, i giovani, in qualche modo tramite appunto un percorso quasi catartico a un certo punto anche loro, diciamo, si riscattano. Non è che la solitudine viene abbandonata per sempre, attenzione, però in qualche modo diventa una compagna, diventa un qualcosa che non fa più male, ma che addirittura può risvegliare dei sentimenti belli e profondi. Forse perché quella che appunto era prima anche incommunicabilità invece si è trasformata anche in comunicazione di qualunque cosa, di qualunque tipo di, diciamo, di espressione, appunto poi lo vediamo attraverso proprio le storie dei ragazzi, attraverso i percorsi di vita che ognuno di loro fa, attraverso una, diciamo, manifestazione aperta e chiara dei propri sentimenti, anche della propria sfera sessuale, del proprio modo di vivere, insomma. Ecco, però senza essere, senza che tutto questo vada a sfociare nell'incomunicabilità, perché poi quando va a sfociare in quello il problema diventa ancora più grande e il romanzo effettivamente si apre proprio con questo. E quindi sicuramente potremmo riferirci alla solitudine un po' come quando si dice quel demone che diventa alleato perché gli diamo noi la possibilità appunto di essere un'opportunità di apertura, di comunicazione, anziché ridursi a poi, diciamo, portare quel sentirsi soli ad esserlo, perché poi se manca la comunicazione c'è un isolamento, no? Quindi c'è un messaggio positivo. Certo, certo, sì. Il messaggio finale penso che sia un messaggio, come ho detto prima, d'apertura, di speranza, di, diciamo, di una feritoia dove passa della luce sicuramente. Poi chiaramente ogni personaggio, questa è una cosa su cui, fra virgolette, ci ho lavorato un po' di più, cerca appunto di esprimere e combattere, duellare con questa solitudine attraverso poi delle forme di espressioni diverse, perché per esempio la madre, che è un avvocato, si chiama Ambra, lo fa attraverso appunto la scrittura di una pagina di diario, il padre Riccardo lo fa attraverso queste sorte di microsceneggiature mentali che lui si costruisce, quasi appunto utilizzando una tecnica cinematografica. I ragazzi molto con il dialogo, ovviamente, perché bisogna, insomma, sono molto più rapidi, più veloci, così, e paradossalmente la nonna attraverso invece un'altra forma espressiva che è quella dell'epistola, della lettera, che poi appunto sono lettere un po' particolari, perché lei lascia a questa famiglia queste lettere che praticamente lei ha scritto nel corso del tempo e che chiama Lettere in Deja Vu, proprio perché il Deja Vu è stato il suo oggetto di studi all'università, lei appunto era una professoressa di filosofia, per cui, insomma, lascia questi piccoli appunto assaggi di sé alla famiglia e forse proprio attraverso questi piccoli assaggi questa famiglia a un certo punto, da che era tante monadi una diversa dall'altra, in qualche modo riesce a ricucirsi, a ricompattarsi. Quindi una sorta di puzzle che va a ricombinarsi. Hai detto la parola, insomma, parecchie persone che l'hanno letto hanno detto che questo libro sembra un puzzle, effettivamente, ed è stato proprio pensato, si è stato pensato quasi una cosa, anche questa un po' abusata, ma veramente non l'ho fatto così, visto che appunto molti romanzi adesso escono già perché sono film, in realtà. per cui, però, diciamo, volendo usare una cosa, la tecnica forse è un po' cinematografica. Beh sì, perché effettivamente poi ascoltandoti raccontare un po' queste scene, sono tutte appunto, sembrano tutte scene su un palco che vanno a combinarsi e sono complementari, perché poi già i mezzi di comunicazione, come dicevi, scelti dai vari personaggi, sono poi quei mezzi modello che sono la voce di quella determinata generazione o epoca, perché ovviamente adesso è molto difficile trovare un adolescente che scriva a penna una lettera, un'epistola classica, che in realtà da quello che vedo è qualcosa che si va un po' a recuperare, perché poi queste cose civicamente durano. Sì, c'è il gusto un po' di quello che è il recupero del vintage, un po' come la riscoperta del vinile, per esempio, in questi ultimi anni. E anche in questo, giustamente come dicevi tu, anche proprio la scrittura delle lettere sta a volte quasi tornando, insomma, quasi come un nuovo modo di comunicare, di allontanare forse anche quella che è questa terribile velocità di comunicazione attuale, cioè in cui appunto ti rispondono 5 secondi, così invece proprio il tempo dell'attesa. Sì, che sia sempre raggiungibili con i vari social. E poi direi proprio il gusto di scrivere a mano. Io ad esempio amo molto scrivere e prima di scrivere sul computer, che non ha più personalità, no? Si può essere la velocità di battito, però lo scrivere sul quaderno, no? È un'altra cosa. È un'altra cosa e c'è molto di te, perché c'è proprio la tua energia, la tua identità e tu che imprimi con forza quelli che sono i tuoi sentire. Quindi è molto bello. Giacomo, invece, tu mi hai accennato prima al tuo primo libro. Si tratta sempre di un romanzo? Ne parliamo un pochino così, visto che ne abbiamo accennato? Caspita, sì, è un romanzo sempre. Si chiama Scia, d'andamento lento. È un romanzo chiaramente a cui sono molto legato, perché, sai, essendo il primo è una sorta di creatura iniziale, per cui ha avuto una lunghissima gestazione. Ho cominciato a scriverlo quando avevo 19 anni e paradossalmente ha avuto forse anche la sfortuna di essere uscito in un periodo in cui sono riuscito a fare poche presentazioni poi dal vivo, perché appunto è uscito nel dicembre del 2019 e quindi chiaramente… Poi è iniziato tutto. A metà febbraio si è fermato tutto, quindi sono riuscito a fare quattro bellissime presentazioni, quattro grandi presentazioni e poi la cosa si è un po' fermata lì. Però è la storia fondamentalmente di uno scrittore che appunto ha la cosiddetta sindrome da pagina bianca, cioè non riesce a scrivere più. per cercare di tornare a scrivere torna in un luogo che gli è stato molto caro appunto fin dall'infanzia, che è stato il cosiddetto luogo di villeggiatura e anche qui, come ti dicevo prima, ci sono molti dettagli chiaramente autobiografici, perché il luogo di villeggiatura era sulla riviera romagnola, dove appunto vado io, vado io sempre. Cioè poi questa cosa un po' strana appunto, questo napoletano che va in riviera romagnola. Sì, un po' tipico. Ma come, con tutti i posti belli che c'avete, vai là. Ma sai, a volte i posti diventano posti del cuore poi, al di là, per cui, come diceva diciamo, un vecchio saggio, i posti sono le persone anche che ci stanno attorno. E Cattolica chiaramente ha costituito e costituisce ancora tuttora questo, insomma, per me. E la storia in questo romanzo, mi dicevi, è molto incentrata appunto su questo... Questo protagonista, sì, su questo scrittore che si chiama Stefano De Santis, a 31 anni, appunto, ha scritto un solo romanzo nella sua vita, un romanzo giovanile che ebbe anche una certa cosiddetta, diciamo, successo di critica più che di pubblico, ovviamente, e torna Cattolica dopo che non c'è stato per tanto tempo per cercare appunto di scrivere nuovamente. Lì, attraverso una serie di incontri vecchi e nuovi, appunto, riuscirà un'altra volta a scrivere e, fra virgolette, se vogliamo definirla così, la particolarità è quella che io a un certo punto faccio vedere l'inizio del suo romanzo. C'è un romanzo che inica nel romanzo. Ah, il romanzo nel romanzo. Il romanzo nel romanzo e, insomma, poi alla fine, diciamo, la storia poi si conclude, insomma, però magari non svelo proprio questo. No, no, certo, ovviamente. Ascolta, Giacomo, io, allora, chi vuole acquistare questi tuoi romanzi e anche il tuo disco, perché so che hai pubblicato proprio un disco, no? Il disco chiaramente si trova su tutte le piattaforme digitali, online, Spotify, tutte quanti, Amazon Music, iTunes, insomma, veramente tutte quante. Non è ancora presente con copia, diciamo, vendita, ma solamente quella che sono le cosiddette copie omaggio CI, cioè copie originali con il bollino, ma che si vendono, cioè, sono, o meglio, sono, diciamo, date in omaggio, appunto, durante gli spettacoli a teatro. Ah, ho capito. Così proprio come il vero cominciò, diciamo, io ho seguito proprio il percorso così. Mentre per quanto riguarda i libri, i libri si trovano chiaramente ovunque, su tutti gli store online, Amazon, IBS, insomma, così, o anche proprio sui siti delle case editrici, Edizioni Mea, per quanto riguarda Scea d'Andamento Lento, e Guida Editori, per quanto riguarda Siamo Tutti Figli Unici. Poi, chiaramente, c'è anche il vecchio e caro metodo, che è quello che forse io preferisco, Cioè, basta andare in qualsiasi libreria italiana e il libro, dopo due, tre giorni lavorativi, arriva, insomma. Quindi ho avuto, fortunatamente, parecchie copie che sono state vendute anche all'estero di amici e amiche che l'hanno voluto acquistare, per cui, insomma, sono arrivati anche in tempi abbastanza rapidi, fortunatamente. E sono presenti sia in formato cartaceo che e-book? Sì, 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 sì. E invece, per quanto riguarda i tuoi prossimi spettacoli, così magari possono avere anche la copia del disco, possono avere accesso? Ma, guarda, in realtà, proprio il prossimo spettacolo io ce l'ho domani sera, proprio. Ah, bene. Sarà, appunto, però, non Niki Lismi, bensì un mio spettacolo, appunto, dedicato a Giorgio Gabber, che tra l'altro farò per la prima volta in un'informazione ridotta e farò tutto insieme ad Andrea Barone, alle tastiere, come a Masi al contrabbasso. E, insomma, Gabber rimane comunque, appunto, uno dei miei cavalli di battaglia, come abbiamo detto anche all'inizio. Quindi, diciamo, il prossimo spettacolo, proprio più vicino, è domani. Per cui, insomma, siamo fortunatamente abbastanza pieni e dopo anche, appunto, quello che è stato l'anno e mezzo di pausa totale, forzata, a causa del Covid, insomma, stiamo, e sto riprendendo, devo dire la verità, macinare abbastanza bene. Mi devi fare sempre più, ma piano piano, insomma. Eh, sì, sì, piano piano, ma l'importante è comunque riprendere, perché comunque sappiamo bene che questi due anni e passa la cultura, ovviamente, è stato tra i settori più... È un bello appunto. Sì, sì. Ascolta, invece, per quanto riguarda i tuoi canali social, quindi Facebook e il resto, dove possono approfondire sulle tue attività? Assolutamente, sì, appunto, tramite i due canali, nel senso, la pagina pubblica di Facebook, che si chiama proprio Giacomo Casau, non ci si può sbagliare, e il mio profilo Instagram, invece, tra l'altro, anche di recente riapertura, perché anche lì sono state diverse disavventure, G, trattipasso, Casau, per cui, insomma, su tutti questi due social, insomma, io posto tutte le, appunto, gli aggiornamenti e le novità relati anche, chiaramente, alla mia attività professionale. Perfetto. Rinnovo l'invito, qualora tu volessi più là, presentare un tuo nuovo progetto, resta a disposizione con molto piacere, e ringrazio voi per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima puntata di Dialoghi. A presto, grazie. Ciao.